E questa terza via che vi dicevo arrivato nei miei 40 anni non è quindi un modello rigido per noi, ma è un qualcosa di plurale. E questo è un po' il viaggio che vorrei fare con voi questa sera. Un viaggio tra le immagini, perché forse più che di ricette buone per tutte le stagioni abbiamo bisogno anche di questo, di quello che ci nutre e alimenta la qualità dei nostri gesti. Ricordando in primo luogo anche a me che l'immagine non è qualcosa che si vede, ma un modo di vedere. Ecco, in questo libro, questa psicanalista, l'indiana e la femminista, quindi le aveva tutte, in ogni donna ci sarebbero più anime, che lei ha identificato, ha utilizzato un po' questa metafora delle idee dell'Olimpo, della Grecia Antica. E la prima cosa che mi sento di dire è che uno, se pensa alle idee, pensa a, come dire, alle identità del Perulano, molto perfette, no? E quindi anche molti irraggiungibili. In realtà in questo libro non è così. E in realtà, anche se si leggono, come dire, i miti greci, non è così neanche per tutte quelle che le combinano. Perchè la lettura che questa psicanalista, che si chiama Jean-Cinot de Boulin, è molto diversa e molto interessante. E vi propongo tre diversi modelli di idee, che hanno, non troppe, che spero possano interessarvi. Tra i diversi modelli, dicevo, troviamo quella di una dea importante, ma forse meno conosciuta. Non so quanti di voi l'abbiano sentita nominare. Si chiama Estia. Estia, che poi per i romani è diventata d'Esta, quindi le Pestali. Era già un po' esule, già della tradizione greca, infatti non abitava nel Monte Olimpo. Ma perché? Ho pensato proprio ad Estia, e me lo sono chiesta io per prima. Così mi è descritta in quel libro. Estia, è una diale focolare, o più precisamente, del fuoco.